Assessore Teresa Stellata, le politiche sociali, il signor Cuor di Fede, il papà di quel ragazzo che è morto per aiutare i due suoi coetanei, ha detto che l'amministrazione comunale Poi Talane gli avrebbe promesso delle cose che però non avete mantenuto. Allora, parlare di promesse nei confronti di un'amministrazione comunale non mi sembra corretto perché non siamo abituati a fare promesse, siamo abituati a lavorare con gli atti amministrativi e per questo motivo in un consiglio comunale, non mi ricordo se fosse il primo, forse era proprio il primo, abbiamo deliberato di proporre questo nostro concittadino per l'onorificenza al valore civile, la medaglia d'oro al valore civile, che noi riteniamo ci siano tutti i presupposti per conferirla post mortem in questo caso. Ma ci sono presupposti quindi che vada a buon fine questa onorificenza? Io credo proprio di sì, a parte la delibera del consiglio comunale che ha una valenza importantissima per ovvi motivi, ho seguito personalmente la pratica presso la prefettura e abbiamo fatto ulteriori adempimenti, quindi la nostra parte è stata fatta, è in corso l'istruttoria da parte dell'ufficio territoriale del governo e ovviamente tutto questo richiede del tempo. Assessore, per le altre promesse che a dire del signor Codifede gli avevate fatte, quindi non sarà possibile esaudirle? Allora, io tengo a ribadire che nessuno ha promesso niente e che stiamo valutando l'opportunità di creare una stela, un monumento, tra virgolette, ovviamente non potremmo farlo per ogni nostro concittadino che purtroppo si venisse a trovare in queste condizioni. Abbiamo ipotizzato l'eventualità di creare una sorta di lapide in cui andare poi ad aggiungere sfortunatamente qualche altro nome, ma non potremmo consumare il cimitero in questo modo, ci sembra evidente di tutta immediata comprensione.